E' stato necessario attivare il protocollo di sicurezza anti-Covid per la presenza a bordo della Main Shift 4, la nave da crociera che ha approdato questa mattina al molo 3 gennaio del porto commerciale di Salerno a causa della presenza di un membro dell'equipaggio positivo al Covid. Salpata da Cannes, la nave è arrivata questa mattina a Salerno dove resterà per l'intera giornata prima di salpare verso Civitavecchia. Il membro dell'equipaggio è stato trasferito al Covid Hospital di Scafati ma per tutti gli altri passeggeri 1.250 presenti a bordo, la metà della capienza della nave lunga 300 metri che può trasportare fino a 2.500 passeggeri ma che ha dovuto ridurre la capienza proprio per le disposizioni di sicurezza, non ci sono problemi perché si tratta di persone già tutte tamponate. Nessuno dei passeggeri tra l'altro scende a Salerno perché non è prevista la libera passeggiata ma solo l'accompagnamento in bolla. Per noi è un giorno di grande ottimismo perché da quasi due anni non vedevamo una nave da crociera nel porto di Salerno, questo significa per noi un nuovo inizio, quindi è fondamentale che questa attività riprenda e che possa portare tanti turisti nel nostro territorio. Anche la presenza di un positivo a bordo non ha messo a rischio l'approdo, ha consentito di testare tutti i protocolli di sicurezza previsti? Assolutamente no, è tutto regolare nel senso che questo positivo faceva parte dell'equipaggio ed era già in quarantena da giorni e è stato trattato in modo regolare secondo quello che prevede il protocollo ed è stato trasferito al Covid Center a Scafati. Nel frattempo nessuno però dei passeggeri scenderà a Salerno perché sono previsti degli accompagnamenti ma per destinazioni che non riguardano il comune capoluogo? Sempre nell'ambito di questi protocolli sanitari che le ho detto prima sono previste delle bolle, la bolla Salerno ancora non è stata prevista ma stiamo lavorando per far modo che già dalle prossime navi da crocieri ci sia una bolla e un'escursione Salerno che noi abbiamo battezzato Salerno Experience. I posti dove andranno sostanzialmente i turisti sono trasbordo su un navetto e quindi vanno col traghetto in costiera amalfitana, c'è una bolla che andrà a Pompei e poi un'altra che andrà a Sorrento, su gomma. Parliamo ovviamente di persone che sono già state tutte tamponate e verificate. Assolutamente sì, il protocollo è molto rigido così come le dicevo prima, noi abbiamo sotto bordo le postazioni con i termoscanner, i punti di igienizzazione e poi i passeggeri che si imbarcano sono tutti tamponati all'origine. Grazie. Grazie.